Oggi dall'automobile L'autodromo di Varano prende il via la 34esima edizione del Moto Estate È una data importante, quella della festa della liberazione Che oggi si tinge dei variopinti colori delle carene delle moto Che tornano a rombare in quella che è stata ed è storicamente la casa del Moto Estate L'autodromo dedicato a Riccardo Paletti Si corre su una pista molto tecnica da 2350 metri con ben 14 curve Di cui 6 a destra e 8 a sinistra Abbiamo un paddock da ben 14.000 metri quadri Completamente riempito dai piloti e da tutti coloro che li accompagnano Che hanno dato un grande, grandissimo spettacolo A questo punto non resta che sentire i motori e il rombo delle moto Forza ragazzi, diamo gas! Ben ritrovati, circuito di Varano Qui al mio fianco sempre super Andrea Tomio Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati Eccoci qua Andrea per la mille Stocche open Si parte alle 15.30 Vado con la griglia di partenza Malfatto Brugnone, Bartolini Racchiusi in due decimi Seconda fila Piano, Palladino, Mozzacchiodi Qui sono un po' più attardati All'incirca sei decimi Terza fila Bocelli, Pace Quarta fila Cristini, Milanese, Capraro Venezia, Magnano, Perri Cornia, Crosetti Ci aspettiamo È sempre stata una gara Molto molto interessante Anche lo scorso anno Tante emozioni Ci aspettiamo una bella gara Assolutamente sì Finalmente si sta un po' rimpolpando la mille Perché è sempre stata una delle categorie Più belle di tutte Proprio la classe regina E quindi dai Vediamo Tu non ci sei mai in queste classi regine No, io sono ancora principessa Eccolo lì La principessa Sono partiti Andrea Tomio Qui al mio fianco Ci divertiremo Anche perché sono bei 16 13 giri Importanti Mi sembra che sia scattato bene Brugnone Davanti a Malfatto Qui siamo on board con Walter Bartolini Che lo scorso anno A Cervesina Si rese autore di un errore Poi provò a recuperare Non ci fu la possibilità E mi sembra che arrivò quinto Se non erro Però nonostante avesse già vinto Il titolo Uuuuh Madonna Guardate qui Che svirgolone Tecnico Un commento tecnico Madonna che svirgolone Brugnone davanti Mi sembra Malfatto Alle spalle Adesso cerchiamo anche di capire Come si incastrano tutti i piloti 16 giri Andre 2350 metri È una delle piste più tecniche Lo ricordiamo Non solo È una delle piste più faticose Più faticose Perché davvero Varano Non hai un attimo di respiro Con la 600 Non oso immaginare Con la 1000 Davvero Tu hai gareggiato Devi Sì Ti devo commentare Forse sì Non lo so Comunque mi sa che Per la 1000 Davvero è impegnativa Adesso a parte di scherzi È una pista È una pista davvero Tecnica Impegnativa Anche il dritto Non è dritto Non è dritto Perché è in curva Hai ragione Eccoli qua Brugnone Malfatto Bartolini Muzzacchiodi Cristini Perri Milanese Bocelli Palladino Sciacca Capraro Pace Cornia Venezia Palladino Palladino È fatto un salto di qualità Esatto Dalla race attack È passato alla open Si stanno staccando i primi sei Da tutto quanto l'altro gruppone Sì Sì Brugnone Sta iniziando A costruire Un vantaggio Sembra Sembra proprio di sì In realtà Cioè Brugnone Malfatto Si stanno un po' staccando Da Da Mozzacchiodi Che è il diretto inseguitore Diciamo Sta facendo la tappo Secondo te Bartolini È una domanda Mozzacchiodi Sì Non mi sembra Sinceramente E poi Nel caso Bartolini Non chiede molto permesso Se deve passare E infatti Eccolo qui Bartolini Si sta iniziando Mamma mia L'ho detto adesso Me l'hai detto Ed eccolo lì Passa Bartolini Con il suo spasso Sorpasso mega Super sorpasso Di Bartolini Tra l'altro È la X Prima del No Così direttamente La parabolica No 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 Allora Quella lì è l'uscita Del ferro di cavallo E c'è un Prima del rettilineo finale Un doppio destra Esatto E poi Bellissimo Sorpasso Grande Bartolini Mi chiede molto permesso Ti posso garantire Che non ne abbiamo visto La cara prima Perché so Sembra che l'abbiamo vista Prima E voleva Vantarsi Invece no Anche perché E questo io te l'avevo detto Mi sembra che Bartolini N'abbia di più E a questo punto Forse Forse Nella prima fase Pare di sì Adesso vediamo Sta cercando di ricucire il gap Mentre qui Si sono staccati tantissimo Per Sì sono belle queste nuove immagini Anche lui Ottava posizione Palladino è riuscito A scavalcare Perri e Schacca E si è messo in settima Posizione Sicuramente più conosce Rispetto anche alle qualifiche Che lo avevano portato in quinta Tanto Bruno Eccolo lì Errore di Brugnone Andre Errore di Brugnone No Cade anche a terra Brugnone Andiamo a rivedere il replay Qui naturalmente siamo on board Arrivato lungo Arrivato lungo Poi va nella ghiaia Lì la moto non la tieni più su È da un problema Sì sì Ma il fatto probabilmente Sfruttando Brugnone I primi giri Ha preso quel margine Che adesso Per Bartolini È dura È dura da ricucire Però A me sembra che Giro per giro Giro per giro Bartolini in qualche maniera Ci sta provando Sì Anche perché Andre Possiamo dirlo Sto guardando un po' La classifica dei tempi Ma il fatto ha girato In 1.08 0.59 Ha fatto la pole position Bartolini in 1.08 277 Pocco meno di due decimi Bisogna capire Gara Poi come sta Ma il fatto si sta tenendo Se arrivano anche dal box Delle considerazioni Per dire Non spingere così tanto Perché hai Già un vantaggio Abbastanza importante Può essere Qualcuno ai box Ho visto qualcuno Che andava ai box Non so se sia Brugnone Ma ho proprio visto Una moto Che si accingeva Ad entrare ai box Vediamo adesso Chi è Anche in base Allo score Delle prime 14 posizioni Con Malfatto Bartolini Mozzacchiodi Cristini Palladino Milanese Sciacca Bocelli Perri Venezia Magnano Corniac Rosetti Pace On board Con Cristini Andre A questo punto Siamo a metà gara Non chiedo pronostici Previsioni Però ti chiedo A prescindere Mamma mia Bartolini Si è avvicinato tantissimo E tra un po' Vediamo proprio Bagar sicuramente Stava già provando Ad entrare qui Andre Secondo me Ancora un giro O due Massimo Che si avvicina per davvero Dici che lo studia un po' Prima No no Cerca ancora di prendere Ancora un po' di metri Quando è avvicino Lo passa Cioè ci prova Ci prova Anche perché Io ti ho visto da subito Hai visto la gara prima? No 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 Te lo giuro È vero ragazzi Vi guarda come vuoi dire Non dire cavolate Non l'ha vista E vi dico che non l'ha vista Perché stava a mangiare Il lupetto Andrea Tomio Mamma Bartolini Ci siamo Andre Altro che un giro Forse già qui Lo ha passato Lo ha passato Walter Bartolini Questa qui sarebbe L'incrocio a ferro di cavallo Giusto? Si Dopo il ferro di cavallo Dopo il ferro di cavallo Bartolini Passa mal fatto Che margine Bravo 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 Mamma mia Ma ti chiedo a questo punto Non è che è mal fatto Non che abbia sottovalutato Ma che non ne avesse proprio Ah si Guarda lì Che stacco di Bartolini Sta scappando Bravo Bravo La moto è sua Fatta consumata Ad uso E consumo di Bartolini Che sta staccato In penna quasi Dalla parte Dall'altra parte Esatto Un pazzo Walter Bartolini Un pazzo Che sta andando a chiudere Il dodicesimo Sì Perry qui Intanto si stacca In qualche maniera Da Venezia Che sta cercando Di dargli una paga Mentre vediamo Continuano a spingere Incitare i piloti E iniziano i doppiaggi Andre Eh sì E siamo in zona doppiaggi Mi sa Tra poco Si sta facendo Io vorrei sapere Quello svirgolone Iniziale Di chi era Di Magnano Di Venezia Inizialmente La scodata Alla prima Curva Subito Il primo giro Ma è che forse Forse Ora Magnano O Venezia Gli lo chiediamo Scrivetecelo qua sotto Esatto Brugnone Tredicesimo Intanto ha scavalcato pace Sta provando In qualche maniera A rientrare Tra i primi dieci Almeno Brugnone È un guanto di sfida Che deve accettare Per forza di cose Perché se va a vedere la gara Un disastro per lui Quel dritto Perché se la giocava Sicuramente Probabilmente con Bartolini Magari arrivava a secondo Magari arrivava a terzo Ma non arrivava di certo Tredicesimo Dodicesimo Undicesimo Alla Bradley Smith E alla Claudio Corti Dritto di Crosetti Dritto di Crosetti Mentre Brugnone Dodicesimo E qui mi sa Che si è impantanato E non riparte più Crosetti Che peccato Vediamo Ci sta provando Arrivano i soccorritori Cercano Con un gesto di portarlo Non posso dire C'è meno Ghiaglia Lui probabilmente Vorrebbe ripartire Bandiera verde Sventola Fatica 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 Siamo al quattordicesimo Giro Sarà stanco anche lui Sarà stanco Perché mi dicevi Che pista Super straimpegnativa Andiamo anche Ancora un po' Live Vedere qui Mozzacchiodi Mozzacchiodi Che sta provando Sta facendo un capolavoro Ma non è Mozzacchiodi Partiva a sesto E se chiude terzo È veramente una grande Sì 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 Assolutamente Se vai già avanti Una posizione Da dove sei partito Hai già fatto qualcosa Di buono Sicuro Eccolo lì Infatti siamo ancora Live con Mozzacchiodi Andre Mentre Martolini Sta vanno andando a chiudere Probabilmente il quattordicesimo giro E si accinge Penultimo giro In solitaria Ma è proprio Cioè Cioè Ma ragazzi Ha messo 4 secondi Almeno tra sé Ma ha fatto Ma ha fatto a questo punto Si accontenta E dice Sai chi c'è Mi tengo la seconda E va bene così Mozzacchiodi uguali È che proprio Si sono staccati tanto Tutti e tre Guarda che rogo Cioè C'è tanto Gappo tra di loro Tra ognuno di loro È come se stessero Guarda Brugnone qua Andre Ognuno da solo Sta provando a prendere Perry e Venezia Mamma mia Sarebbe un miracolo Ma Facile facile Un sorpasso Da parte di Brugnone Che si trova decimo In questo momento E proverà A dare Forse No è passato No Forse non è passato No È Magnano Magnano davanti Ancora Brugnone Contro sorpasso Qua Brugnone esterno Entra Deci Undicesimo Su Magnano Stanno combattendo tantissimo Qui questa volta invece Su Perry Vediamo se sul dritto Riesce a passarlo Si Ci ha già riuscito Probabilmente Andre Si si E questo ci fa capire Che Brugnone Sarebbe stato un protagonista Ah sicuro Infatti quello Quello che abbiamo detto Mi sarebbe piaciuto Vederlo Con Bartolini Peccato peccato Decimo Brugnone In questo caso Mentre ci avviamo Ci aggiungiamo Stavo dicendo Accingiamo All'ultimo giro Di Walter Bartolini Final lap Ha mollato un po' Anche lui Beh si Non ha senso Tirare come un pazzo Quando è quel vantaggio Intanto è uscito Qualcuno è entrato In pit lane Adesso capiamo Anche chi Probabilmente Crosetti Ultime curve Anche per lui In quella che è La 1000 Open Eccolo qui Walter Bartolini Vince Impennando Grandissima gara Grande vittoria Alle sue spalle Luca Malfatto Partiva in pole Secondo Si accontenta Chi si accontenta Adoati diceva Liga 2 Terzo Mozzacchiodi Quarto Cristini Grande Bravissimo Manuel Mozzacchiodi Bravi Bravi tutti Guardano lì Cristini Gran gara Anche per lui Da decimo a quarto E poi Max Guarda lì Con la gambettina Per salutare Fuori Per salutare Aspettiamo anche Palladino Intanto Mocelli Sciacca Vediamo Palladino Che vince La propria sfida Su Mocelli Riesce ad arrivare Quinto Mocelli Sesto Sciacca Settimo Milanese Venezia Brugnone 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 Non lo riesce a scavalcare Erano tanto lontani Guardali lì Guardali se aveva un giro ancora Brugnone con un giro Scavalcava probabilmente Venezia Milanese Che però si guadagnano L'ottava e la nonna piazza Decimo Brugnone Pace Perri Magnano Cornia Andre Ho bisogno di boccheggiare Bella gara Grande vittoria di Bartolino Bella 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 vittoria E niente dai Diamo la lina Parco Piuso a Nilo Le interviste Sentiamo loro Sentiamo loro Andiamo a vedere anche un po' Quello che è il parco chiuso E poi ci rivediamo per le interviste post gara Oggi ho fatto una bella gara Non riuscivo ad avere il passo di Walter E con Cristian Brugnone Eravamo lì Poi ha fatto un errore Non ho capito cosa è successo Ho approfittato Però sono contento Abbiamo fatto una bella gara Una bella qualifica ieri Perché ho Sono contento E noi siamo contenti per te Andiamo da Walter Ciao Walter Ciao a tutti Bene dai È andato bene Abbiamo cambiato un po' di roba Allora non sapevamo ancora in gara Sai come andava Confronto l'anno scorso Allora adesso però abbiamo visto che sai È andato bene È andato bene Adesso vediamo Il migliorare ancora un po' Un po' qualcosa Ottimo Grazie Grazie Allora no E sono contento Contentissimo Andare a podio in mezzo a tutti loro Che io l'ho sempre visti da lontano Nel senso sono anni che li conosco Sempre Sono sempre stato dietro Oggi ho fatto i primi due o tre giri Anche forse cinque Cercando di stare attaccato Anche un po' con Walter E tutto Poi non Cioè Avevo un passo nettamente superiore Non Non sono riuscito Però a terza posizione Sono felicissimo Tanto voglio fare i complimenti a loro Che sono andati veramente forte E siamo tanto indietro Con la messa a punto Però il risultato mi va benissimo Sono contentissimo E stiamo lavorando E sicuramente Arriviamo Sicuramente Grandi Grandi tutti Grazie mille Ma che ti aspettiamo Ti aspettiamo Buongiorno a tutti e benvenuti Siamo qui a Varano Raffaele Lanza e Francesco Greco 24-25 aprile Prima tappa dell'anno Francesco per quanto riguarda Il trofeo BDB Qui stiamo per Ci siamo Ci siamo Dai Stiamo per partire Con la BDB La leggera Eccoci Pronti Pronti col semaforo Partiti Partiti in questo momento Grande partenza Del 199 Ma vediamo che anche Sono partite bene Sì Ecco qua la prima staccata Che dici Raffaele Guarda Yves Pierre Molto molto veloce Andrea Magliola Numero 769 Il compagno di squadra Vediamo che è alle prese Con un supermono Partito bene anche Andrea Ma Yves è un po' di più Il supermono non molla però Il supermono non molla Dovrebbe essere schegnetti Sì Appunto in questo momento Alle prese con Magliola Vediamo qua il primo passaggio Alla S Bella l'ha fatta Un bel Assolutamente Un bellissimo Gran mezzo Giustamente parlando Col preparatorio tecnico Del Kawasaki Ci è rimasto ben poco Grande il lavoro Che è stato fatto Un attimo lavoro Anzi Bel missile Sì Salutiamo Vittorio Salerio Che è lui Che ci ha contattato Per fare questa cosa Che stanno Attenzione Andrea Magliola Con Borde Sì Con Borde Ho visto un rattrizzamento Alla X Vediamo qua il supermono Incollato a Yves Terza posizione Quindi attenzione Perché abbiamo ben due Panto nelle primissime posizioni Questo per quanto riguarda Questa prima partenza Questa prima griglia Della BDB Battaglia dei BD cilindici Qui a Varano E il primo passaggio Il primo passaggio Il supermono Il supermono Scagnetti sta Dando del filo da torcere A Pierre In questo momento È passato in testa Terza piazza per Magliola Ancora supermono Corremondi Attenzione però a Venesia La sottopiso Del rossi motore Si guarda Quel mezzo Guardano Che la Padon Cia Però il supermono È il nostro duro Perché Chiude Scagnetti Il nostro duro Poi è anche Sicuramente di casa Scagnetti Che sa E' un circuito Che appunto Ha Specialistico Come dire Spesso e volentieri Qui Ci hanno corso Tanto 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 Scagnetti Insegue il supermono Che ha anche Un pochettino Allungato Sembrerebbe Ha preso qualche metro Prezioso Che sicuramente Gli permetterà Di difendersi al meglio Da un Pierre Che è Sappiamo Priota scomoda L'ha dimostrato Assolutamente Che è la prima volta Che vede Che varano Quindi insomma Sta lì Ha perso ben due secondi Ha limato due secondi Pensa un po' Dal primo al secondo turno Di prova Quindi decisamente Poi c'è un altro supermono Grande crescita Per quanto parla Ai Mondi Venezia Morri Tornati nuovamente Ancora passaggio Per Scagnetti Daniele Scagnetti A comandare le danze Siamo ormai Verso la prima metà Della gara E devo dire Che comunque La cavalcata Delle pattern È decisamente interessante E bella Sì Assolutamente Da vedere Sono come dicevamo Bellissime moto E sanno il fatto loro Poi ripeto Sono molto elaborate E affascinanti Comunque Ci hanno questo 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 Retrogusto Vintage Che noi C'è tutta la storia C'è tutta la grande Tradizione Di questa casa Che è Trasuta passione Tecnologia Grande competenza Insomma Sono molti anni Che poi Questi telai Del 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 Costruttore Eh sì Perché è stata Proprio Una delle case Artigianali E questo Può essere Definita Più importanti Per quanto riguarda La storia del motociclismo Non solo italiano Ricordiamo Quante volte Ha partecipato al mondiale Intanto Scagnetti Continua a comandare E Piera Le sue squadre Attenzione perché Maiola Problema tecnico Visto l'hanno sfilato In parecchi Molto probabilmente Peccato Vedo un rallentamento Quindi Molto probabilmente Sembra che Qualche noia Qualche noia Qualche noia Non so Benissimo Curva La parabolica Quella In fondo Diciamo che la vivi Molto Da dentro Sì Ecco Franco Martini Vedete Che dicevamo Gran pezzo E diciamo Appunto Il fatto di questa Categoria Che abbiamo voluto Rinnovare Ancora una volta Per quanto riguarda Il regolamento La Biotis Becca Tanto Ancora a passaggio Scagnetti Piera alle sue spalle Raimondi Morri A Venezia Con Armelio Gli la stanno rendendo dura A Venezia Gli superpono Stanno lì tutti pronti Raimondi È lui Che ho rischiato Di tamponare Lo scorso anno Per fortuna Lo vedo Tutto bene Tutto a posto In occasione Ricordiamo Quando c'è stata Una partenza Un po' briosa Da parte di Francesco Tutto a posto Infatti vogliamo ricordare Che adesso Per Il discorso Di numeri Di capienza E la leggenda Non è Attualmente In questa gara La categoria leggenda Ma è spostata Corre nell'altra griglia Perché appunto I numeri Stanno diventando tali Da permettere Siamo sempre in grado Di fare due griglie Quindi doppia partenza Per la BDB Ma la leggenda Appunto è spostata Con leggera Con veloce e potente Sì Ancora Guardi Beh Stiamo anche da dietro Decisamente Ha fatto un gran Bel lavoro Lo sa Lo sa Lo sa Lo sempre Lo scorso anno Molto curate Molto curate Poi anche lui Sta a crescere Diciamo Di tanto Lancia la zampata Vediamo in questo momento È all'inseguimento Di una serie di mezzi Sta guidando bene È lì Incastrata Qui sono tutti Un po' incastrati Tra di loro Chiaramente Dal punto di vista Diciamo Tutto il gruppetto Il seguitore Questo qua Rispetto al gruppo Di Venezia E degli altri Supermono Attenzione Sorpasso Sorpasso Di Gualandi Su Cazzelvedere 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 Con la Rosmoto Sì Si deve accontentare Di inseguire Per quanto riguarda Venezia Invece Ancora un'ottima Quinta posizione Devo dire Che la sottopeso Sta dimostrando Ancora una volta Di essere un gran pezzo Sì Perché poi Diciamo che Scherzando Venezia Diceva Che lui Recuperava Con il suo peso Quello della sottopeso Che perdeva No Però insomma Devo dire Che il pacchetto Si sta dimostrando Egregio Anche questo intanto Un'altra bandiera blu Bandiera blu Scagnetti Si prepara A superare Credo Dario Rossi Non vorrei dire Ma è Dario Rossi Nel merino Di Scagnetti Attenzione Perché arrivano Anche Gli altri due Parliamo di Pierre E Morri Quindi Se Scagnetti Può gestire Il passaggio Nei confronti Del rivale Un po' più complicata Potrebbe essere Invece Per quanto riguarda Pierre E Morri Intanto Un borde Che cosa sta facendo Con Lazzarini In combatte Sì Adessi Rimane sempre La situazione Vista poc'anzi Razzarini avanti Giro finale Giro finale Bianchi deve solo Gestire fino Alla bandiera Scacchi Vediamo un po' Intanto Ecco il doppiaggio Di Pierre Vediamo un po' Attenzione Un po' di difficoltà E Morri passa Morri passa E quindi Peccato Dicevamo La bagaglia dei doppiaggi Fattore sta che In questa occasione La bagaglia dei doppiaggi Gioca Era attaccatissimo Morri Lo stavo dicendo Prima Era attaccato Era dietro E beh I supermono Sono ripeto Sono dei begli Ossaccituri Assolutamente Su una pista Come Varano Moto comunque Che sono Monocilindriche Con potenze Interessanti Perché se aggirano Anche 80 cavalli 80 cavalli Gran pezzo Intanto Ecco la bandiera Scacchi Scagnetti La PR Sarà incavolatissima Eh sì Perché giustamente Era appiccicatissimo Il buon Morri Però diciamo che ha saputo Approfittare al meglio Di questa piccola indecisione Incolpevole Sarebbe stato bello Vedere fino alla bandiera Scacchi Che cosa Poteva succedere Magari un altro Un incidente Tra l'altro Due super mono Si sono toccati Tutto a posto Si rialzano Tutto a posto Tra l'altro Dovrebbe essere accaduto Dopo il passaggio Dei primi Quindi risultano Tutti inclassifici L'ultimo giro Loro Immagino Così Abbiamo la chiusura Di questa prima gara Quanti